Frecce, ti piace dove ho portato sto giro? Beh, direi che ti sei superato. Ecco, l'isoletta, in mezzo al Mediterraneo. Piedi nell'acqua. Brava, io già so che tu stai pensando allo spaghetto vongolo e bottarga. Eh sì. Niente spaghetto vongolo e bottarga, ragazzi, siamo qui a Panarea, meravigliosa isoletta delle isole Olie in Sicilia, perché stiamo andando da Antonio che ci farà assaggiare, o meglio, proverà a farci assaggiare la bistecca pubo a me in Italia. Wow! Cioè tu hai trovato uno? Sì. Su un'isola? Sì. Mezzo al mare? L'isola è così che fa la carne? Devi sapere, amici di braccia piccola, se c'è qualcuno che fa una bistecca nel mondo, noi lo troviamo e lo andiamo a trovare. Però il ristorante sta qua sopra, incontriamo Marco, figlio di Antonio. Figlio da pollo? No, non è figlio da pollo, però in teoria siamo tutti figli di Apollo. Grande ristoratore, bellissimo personaggio, persona interessantissima. Eppure bello. Secondo me c'ha anche un suo fascino, questo me lo dici te. Il ristorante sta a 300 metri sulla colline. Ma se beve? Se beve, se beve, se beve. Una cosa dell'isola simpatica è che qui mezzi a motori non ci possono stare, se non gli scuterelli 50, sono i tassi elettrici, come quello di Maria Rosa che prendiamo per arrivare a Antonio il macellaio. Antonio il macellaio, carni alla brace, panarea, ragazzi siamo arrivati. Là c'è l'ingresso del ristorante, qui c'è l'ingresso della macelleria, ma prima di varcare la soglia di questo posto devo ringraziare la Macini Market, azienda italiana che si occupa di vendere dispositivi per ristoranti e per macellerie. Ovviamente parliamo di dispositivi professionali. La ringraziamo perché ci permette di fare questo viaggio alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Tra l'altro la Macini Market vende questi dispositivi per le cucine, per le macellerie, anche con la formula del noleggio operativo. È una formula molto utile, dovete comprare un frigorifero 3 euro al giorno, ve lo portate a casa. Vi lascio in descrizione tutti i link, seguiteli sui loro social per rimanere sempre aggiornati delle loro offerte. Grazie a Macini Market. Stiamo dalla macelleria, dove già c'è il nostro uomo. Marco, eccoci qua, siamo arrivati. Ciao, benvenuti. Marco. Titolari di Antonio del macellaio a Panarea. Praticamente tu qui già mi dai un colpo al cuore, uno entra e sbamma si trova questa parete di di bistecche, canne da tutto il mondo. È una cosa sconvolgente, trovare su un'isoletta come Panarea questa selezione di carne. Ti va dato atto che competi con le migliori steakhouse d'Italia, lo sai, che entri e c'è questo festo da carnivora, fa un po' vedere che c'hai al bollo. Vabbè, questa ragazzi c'è scritto rubia cagliega e vado facile. Poi che altre carne c'hai? Sono due selezioni. Questa che selezioni è? Questa è sempre una rubia cagliega. Di un altro fornitore? Di un altro fornitore, sì. Addirittura due fornitori. Questo è Cobb e lo riconosco. Sì, questo è un esperimento che abbiamo fatto, una fronatura di 11 mesi. Fantastico. Abbiamo una rubia, un angus e una paltica lì giù in fondo. Qui ti dico già che ci sarà la bistecca che presenterò al Contes. In una, diciamo, una di queste bistecche sarà quella che secondo te è la più buona d'Italia. Non ti anticipo ancora nulla. Fantastico, chiudiamo, qui ci torniamo dopo. Ok. Questo è praticamente la meravigliosa bottega, bazar, maciederia alimentare. Sì, praticamente sì. È fantastico. Mamma? Gestisce tutto mamma. Mamma? Il boss? Mamma il boss. No, io non sono il boss. La mamma è sempre il boss. La mamma è sempre il boss. Questo è il banco della maciederia. Praticamente la gente arriva, ormeggia, scende col tenderino, viene, se voglia la carne di Giuseppe. Sì. E c'ha la faccia simpatica. Sì. La faccia simpatica. È pure bravo? Numero uno. Il numero uno di Panarea. Il migliore sul pianeta. Il migliore sul pianeta. E poi là c'è il ristorante. E ora andiamo. E ora andiamo. Guarda che faccia di Francesca, ora che sei affacciata. Guarda che c'ha, guarda che c'ha di fronte. No, girate, girate. Cioè guarda che meraviglia là, miseria ragazzi. Ma che è? Ma io mi vado a tuffare. Ciao. Se vedevo, mi vado a tuffare. Ciao. Però il bagno dopo se lo favo. Cioè tu mi senti che la gente si mangia la bistecca con questo spettacolo. Capito? Capito. Mamma mia. Ragazzi. Questa è una delle sale. Già c'è la sudarella. Mortacci de Pippo ragazzi. Ma dove la portate? La pici di braccia mia ancora, ma voi vi rendete conto che abbiamo scovato? Mamma mia. Comunque la storia di sto signore è meravigliosa. Poi dopo se se devo me la racconti bene. Però non è finita. Scusate se ti è diverso, ma ero emozionato da vedere questo posto spettacolare, con questa vista spettacolare. Francesca si sta ancora riprendendo. Marco, questo è il banco carni che i tuoi clienti la sera vedono. Sì. Arrivano, si scelgono la carne e tu gliela cuoci sulla braccia. Qui a sinistra, io vado a intuito, abbiamo la Sicilia, no? Queste che sono? Selezionale. Questa è una salsiccia fatta da noi con carne di maiale, chiaramente pomodoro, auricchio, scarola. Buona. Polpette della mamma. Queste sono incredibili. È uno dei nostri piatti più richiesti. La polpetta della mamma. La polpetta della mamma. Ricetta segreta. Ricetta segreta. Queste sono le famose braciolette, no? Sì. Braciolette siciliane, messinesi. Sì, praticamente. Su a nord la braciola, la bistecca. Qui in Sicilia, ragazzi, le braciole sono queste. Ma tu ci metti anche il pangrattato? Il pangrattato all'interno, non sopra. Ah, è all'interno e non sopra. Ok, ci sono mille varianti sul tema. Quindi lasciamo la Sicilia qui a sinistra, ci spostiamo a destra dove incontriamo il mondo. Assolutamente sì. Qua c'è, guarda che roba che hai, ragazzi. Guardate che c'hanno qui. Questa è una vaglio americana. Questa è vaglio americana? Sì, vaglio allevato in America. Pazzesco. Poi che altro ci abbiamo? Qui c'hai qualche robetta magra. Sì, questo qui sono filetti italiani. Per le femminucce che ti chiedono una cosetta magra. Accontenti pure loro. Madonna che sleppe che c'hai. Questo è sempre vaglio americano. Anzi, aglio di bomb. Poi che altro c'hai? Le chicche ce le ho da l'altra parte. Dove? Dove? Di là, ti porto. Ah, di là? Sì. Marco, praticamente tra i tre frigoriferi che tu hai con la carne in esposizione e il banco, ti assicuro che sei uno dei ristoranti meglio forniti d'Italia. Complimenti perché questo accade su un'isola. Basta cincischiare, tagliami la bistecca che secondo te dovrà essere quella più buona d'Italia. Ovviamente la bistecca la tagli te. Giuseppe, macellaio di anni? 58. Amico mio, tu sei passato dalle carni magre, 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 magre a queste follie marezzate e super frollate. Esattamente. Ma questo cambiamento come l'hai vissuto? Bellissimo. Voglio assistere al taglio di questo monumento della gastronomia. Perfetto. Ok, grazie Giuseppe. Grazie mille di tutto. Te voglio bene. Grazie, anche io. Te posso portare a Roma con me? A disposizione. Ah sì? Non lascio nessuno dietro di me. Grazie. Signori siamo di fronte oggettivamente a una bistecca ben riuscita. È inutile dire che il vaglio lo conosciamo, le caratteristiche di questa carne extra marezzata le conosciamo. Chiedo scusa a tutti voi se a volte mi soffermo su questi particolari, ma a me ancora mi emozionano, ma emozionano tantissima gente. Questa è la bistecca che ci andremo a mangiare. Ok? Eccola qua. È lei? Che dici? Sei convinto? Francesca, tagli un po' un'annusata. Guarda che bella. Grassetto. Tanta roba. Tanta roba, sì. Questa bistecca promette molto bene, ragazzi. Molto, molto bene. Mamma mia. Ti piace? No, avete capito ragazzi la situazione? Giuseppe, il carpaccetto l'ho offerta a Francesca e non a me. È certo. Che gran fio della ballerina te possino, te possino. Prima delle giornate. Te possino, a me niente. Marco, guarda, io è un po' che non imbocco qualcuno, però vabbè, dai, per te faccio uno sforzo. Per Francesca mi viene più spontaneo. A te ti è? Dimmi che ne pensi? Qualità. Qualità. E anche mortacci quanto è buono secondo te? Assolutamente. Perfetto, beh, l'ha detto lui, eh. Ci siamo ragazzi, è arrivato il momento della cottura. La cuocite? No, guardate sto ragazzo, signori. Sembra uscito da un libro di Emilio Salgari. Io non so tu dove l'hai presa la tua crew, ma solo bella gente, vedo. Solo bella gente. Caro, è tua cottura al sangue, mi raccomando. Grazie. E mentre la bistecca cuoce, che Francesca ci dividiamo, lei scende in cantina a scegliere un po' di vini. Io mi voglio sedere un attimo con Marco perché voglio fare due chiacchiere con lui. Enrico, mi fa anche aprire la cantina, vado, eh? Madonna santa. Sceglierò dieci bottiglie, cinque che non c'entrano nulla, tre che potrebbero entrarci ma non sono il top e due che sono perfette. Posso mettere le mani ovunque? Marco, tu sei un pazzo furioso comunque, fattelo dire. Adesso ti ho messo seduto perché voglio riassumere la storia di questo ristorante, la tua storia. Porca miseria, tanta roba, dobbiamo però sintetizzarla. Quando nasce Antonio il Macellaio? Nel 1970. Ma tu non sei Antonio? No, Antonio è mio padre. Antonio è tuo padre, che ha una storia meravigliosa alle spalle. Sì, sì. Dalla Sicilia è emigrato? In Argentina. E quanto c'è stato in Argentina? 25 anni. Quindi lì ha imparato tutto ciò che c'è da sapere sulla carne. Diciamo che da quelle parti non si fanno parlare dietro quando c'è la carne. Direi di no. E che fa? Torna a Panarea? E si inventa questo ristorante, inventa questo ristorante. A Panarea nel 1970 la carne? Bistecche, patatine fritte e poi riuscite a creare tutto quello. Papà era un visionario? Assolutamente. E io mi sa che ho preso un po' da lui. E mi sa di sì. E nel 1970 la carne a Panarea? Come reagiva la gente qua? Certo, chiaramente era un po' strano sentire parlare della carne a Panarea perché chiaramente arrivi su un'isola dove governa il mare, governa il pesce. Diciamo che nel 1970 il modo della carne era decisamente diverso. Tuo padre è stato un gran visionario, ha gettato veramente bravo. Per quello dico, qui ragazzi c'è davvero tanta storia tra questi taoli, tra queste mura, in quel bracere. Ora nel 2019 papà va a grigliare con gli angeli. Sì. C'è un cambio, no? E c'è un cambio, diciamo, generazionale. Fisiologico. Fisiologico sì, perché comunque sia io ho sempre lavorato, ho imparato tantissimo da lui. Io scommetto che tu hai portato marezzatura e stagionatura e frollatura, vero? Sì, sicuramente. Quindi un'altra botta di divisione oltre. Di sapore. E? Eh, ancora oggi c'è un po' di scerticismo, questo non lo nego perché comunque tanti turisti quando arrivano qui non pensano di poter mangiare una carne di alto livello. Però io punto proprio a quello. Proporre al cliente una carne di qualità elevata. Se arrivi in un'isola esclusiva come Panarea non puoi non mangiare una carne esclusiva. Mi piace come idea. Volevo dire la mia su questo approccio di Marco. Sei su un'isola, la carne la vendi solo te. Avresti potuto in maniera paracula proporre una carne di bassa qualità. Ci mettevi un po' di sale, la scottavi alla braccia, erano tutti contenti. No. Pur tu avendo un vero e proprio cartello, tu sei un monopolista della carne qui sull'isola, nonostante questo hai deciso di alzare il livello. Ti va dato atto. C'è un conto ragazzi in una grande città dove c'è la concorrenza, dove tu veramente battagli dalla mattina alla sera con il locale accanto e allora lì cerchi, studi. Io su un'isola non me lo sarei mai aspettato. Ma non se lo aspetto la mia. Io mi aspettavo la bracioletta classica siciliana. Che c'è, quella non manca mai. Però dare quel tocco di qualità in più e far scoprire anche ai clienti dei sapori nuovi. Bravo papà, bravo te, ma bravo tutta la famiglia. Perché hai messo in piedi una roba strepitosa. Però, secondo me, la bistecca è pronta. Andiamo a mangiare, andiamo a massaggiare questa bistecca per buona Italia. Dai, andiamo. Questo è il momento che preferisco. Eccolo qua, il baguio spagnolo di Antonio Il Macellaio. Ora chiederò al nostro buon Matteo uno sforzo. Se ci fa un giro a 360 gradi, guardate dove mangiate la bistecca se venite a trovare Antonio Il Macellaio, ragazzi. Questa è la parte sud-est dell'isola di Panarea ed è davvero tanta roba. E' una cosa già questo. E questo, ragazzi, già è tanto, perché si mangia con gli occhi, con lo sguardo, con le emozioni. Si mangia in una location, si mangia pensando. Quando ce l'ha servita su un tagliere, guardate, ragazzi, il grassetto sta colando nelle canaline. Andiamo all'assaggio. Mortacci, quanto è buona! Porca miseria! È roba monumentale! Mamma mia! Prova un confettino di grasso, ragazzi. Spaghetti, madonna mia, ragazzi. Io ti ho mutolito oggi, ti ho mutolito con la location, ti ho mutolito con l'isola, ti ho mutolito col vino, cioè... Ma io dirò tutto alla fine. Perfetto, adesso sto vivendo. Marco, ora è il momento tuo. Scegli una tra queste dieci bottiglie. Non mandare tutto a p***o per una bottiglia di vino sbagliata, che qua stiamo ad altissimi livelli, eh. Scegli questo vino e riempisci i tu calici. Scegliamo questo rombone di Fiorenzo Basta. Hai scelto questo? Va bene? Mi piace questo sistema, lo sai, taglio, mangio, assaggio e andrai avanti all'infinito. Se te conosco, tu hai già fatto le tue considerazioni. Io mi ritiro per deliberare. Amici di Precima Ancora, battute conclusive. La carne che mi ha fatto assaggiare Antonio era una carne di serie A. È un prodotto ultra ricercato. Non si è trovato alti in giro. Sono molto felice di averlo assaggiato. La cosa che mi è piaciuta è averlo assaggiato su un'isola. Perché il discorso l'abbiamo già fatto. Non è da tutti portare certa carne su un'isola dove gli spostamenti sono difficili. Quello che mi è piaciuto della carne è che me l'ha data fresca e la freschezza gli ha dato quella nota croccante al morso che ha sprigionato un meraviglioso mix. Croccantezza e esplosione del gusto del grassetto che fuoriusciva. Sono rimasto mostruosamente sorpreso. Anche perché poi, ragazzi, mangiare la carne con quello sfondo in questa location ti riempie la pancia e ti riempie l'animo. Esco quindi da questa esperienza panarea da Antonio il Macellaio arricchito, arricchito anche umanamente per la grande passione che ci mette Marco. Dal bagno degli uomini è tutto. Un saluto. Che la paraccia sia con voi. E adesso sentiamo Francesca che ci dice. Conclusioni finali. Ora, per quanto riguarda l'abbinamento, devo dire che è stato perfetto. Io ho messo due bottiglie che erano perfette. L'altra, non vi dico qual era. Questa era una delle due perché ha 22 anni e questa carne aveva bisogno di avere questa profondità. Quindi l'abbinamento è stato fatto sicuramente per assonanza. Bravo Marco, assolutamente. Ho trovato in questo posto la stessa cura, la stessa ricerca. Grazie infinite per questa esperienza magnifica. Ciao! Grazie a tutti.